Gianni Colacione per LibreTV, siamo a Torre Argentina, sulle scale, interviste sulle scale, in compagnia di Alessandro Capriccioli, segretario dell'Associazione Radicali Roma. Alessandro Capriccioli che è stato in qualche modo protagonista di un po' di polemiche per un articolo che era in risposta a una richiesta di soldi da parte del tesoriere del Partito Radicale Transnazionale, Maurizio Turco, lui ha risposto pubblicamente, questo è stato un articolo che è pubblicato dall'Espresso in cui immediatamente c'è stata anche data la responsabilità di averlo fatto pubblicare e si è parlato anche di questo in questo inizio di comitato, ormai siamo al secondo giorno. Che atmosfera su questo si è creata secondo te Alessandro? Su questo intanto si è creata un'atmosfera come di condensazione di alcune domande che molti facevano a cominciare da Valerio Federico, addirittura Roberto Chicio Messere poi ha detto certe domande, le fa da anni, insomma l'atmosfera secondo me le domande non erano nulla di nuovo semplicemente probabilmente in occasione di un fatto come la richiesta di sostegno del Partito Radicale con l'annuncio dei licenziamenti e quindi in concomitanza di questo momento e messe tutte insieme in qualche modo si sono un po' condensate io non credo che quelle domande siano nulla di nuovo rispetto a quello che già molti di noi avevano chiesto sia pure magari la spicciolata in modo perché poi tutta la vicenda diciamo dalla lista pannella eccetera eccetera si è andata chiedendo nel corso del tempo quindi alcune domande che prima noi facevamo in modo così un po' estemporaneo hanno trovato una loro forma più organica e quindi forse per questo hanno guadagnato questa attenzione che c'è stata durante questo comitato allora senti citiamo intanto l'articolo di Chiesa non mi ricordo chi lo firma e se possiamo sintetizzare con una domanda con un'espressione con un paio di domande un pochino il succo di questa tua serie di interrogativi che poni ecco che cos'è che chiedevi più o meno con una certa sintesi e precisione al tesoriere Maurizio Turco dunque intanto io ho mandato una mail a Maurizio Turco in risposta alla sua mail di richiesta di aiuto del Partito Radicale e dopo ho pubblicato questa mail su Facebook diciamo ho pubblicato il testo delle mie domande su Facebook cosa che poi è stata ripresa in autonomia devo dire questo è risposta a chi parla dell'articolo telefonato come ho detto oggi non ho tempo manco di rispondere al telefono quindi addirittura telefonare alle persone che Luca Sappino sull'Espresso ha letto queste domande e ha pensato di scrivere un articolo nel quale lui dice che nota il fatto che si pensa nel Partito Radicale che alcuni pensano dopo Pannella che io devo dire da parte mia è vero e non credo che ci sia nulla di male le domande erano delle domande specifiche su alcuni aspetti che secondo me vanno chiariti ho chiesto a Maurizio Turco di chi è giuridicamente la sede dei radicali quella che noi genericamente intendiamo come sede del Partito Radicale di chi è la radio, di chi è il simbolo della rosa nel pugno di chi è l'archivio radicale quali sono i debiti e i crediti che il Partito Radicale ha nei confronti di altri soggetti dell'area che poi è una cosa che in un altro modo aveva chiesto anche Valerio Federico con l'esigenza di fare il bilancio consolidato che è praticamente la stessa domanda e se corrisponde al vero il fatto che alla morte di Marco Pannella che io scrivevo nella lettera ci auguriamo il più tardi possibile tutta la gestione del patrimonio radicale resterà a un'associazione di 4 o 5 persone queste erano le domande poi chiedevo anche notizie sulla azione giudiziaria di cui Maurizio Turco ha parlato più di una volta in varie riunioni e in varie circostanze che lui intenderebbe, avrebbe voluto intendeva fare nei confronti dell'associazione Coscioni per la faccenda dell'iscrizione all'albo dell'associazione di promozione sociale e che la stessa associazione Coscioni diciamo qualche mese fa ha reso pubblica tutto qua, le domande erano queste Hai avuto una risposta in qualche modo un tono diciamo secondo te collaborativo poi dopo probabilmente è una risposta lunga che dovrei un pochino anche leggerti meglio insomma anche il respiro dell'atmosfera qui in comitato ti sembra che sia di non collaborazione, di assenza di qualsiasi tipo di interlocuzione su questo oppure c'è stato anche qualche intervento che ti ha fatto pensare che magari con questa tua iniziativa richiesta di informazioni si può avviare si può intravedere un percorso di interlocuzione Ho avuto una risposta che è arrivata ieri intorno all'ora di pranzo che io non avevo pubblicato da nessuna parte non tanto per non pubblicarla quanto perché aspettavo di avere un computer fra le mani poi oggi ne ho dato notizia fra l'altro nel mio intervento di questa mattina al comitato al quale sono stato invitato perché non ne faccio parte poi durante il suo intervento Maurizio Turco mi ha diciamo fra virgolette rimproverato di non aver dato immediatamente pubblicità alla sua risposta e quindi anche se io naturalmente l'avrei fatto lunedì cioè appena fossi tornato a studio avendo un computer fra le mani per comodità invece per evitare come dire che si poi non ho capito bene quali quali sarebbero secondo Turco come dire le ragioni che mi avrebbero indotto a non pubblicarla subito probabilmente lui pensava che io avrei atteso di poterla pubblicare con i miei commenti con le mie cose ma in realtà io l'avrei fatto appena avessi avuto un computer l'ho fatta dal telefonino sperando non è fatto casino col copia e colla e quindi l'ho messa su Facebook oggi Facebook è cazzetta ufficiale Facebook sì che poi non è che diciamo non ho pubblicato esattamente su la CNN però e il clima beh il clima la risposta è una risposta molto lunga e ponderosa e piena di dati e quindi aspettiamo questa risposta per valutare per capire ma la leggerò con calma e vedrò di capire cosa contiene quanto al clima generale mi pare che secondo me sono cose di cui ci dobbiamo occupare e cresce la consapevolezza che dobbiamo occuparci di queste cose io credo e spero che nei prossimi mesi riusciremo a farlo due parole sull'iniziativa di Radica di Roma sull'iniziativa Accogliamoci nella raccolta firme per i due dei libri di iniziativa popolare come sta andando? sta andando bene sta andando bene anche se i temi sono difficili abbiamo superato le 2500 firme quindi siamo al giro oltre il giro di boa è chiaro che andare in mezzo alla strada a parlare di Roma e rifugiati soprattutto di Roma non è facile io credo che sia l'ultimo tabù che è rimasto che è rimasto ancora da affrontare e da sfatare però al tempo stesso devo dire che invece alcune reazioni mi hanno stupito come dire positivamente e favorevolmente quindi noi siamo sicuri di farcela questo è un grande impegno invito fra l'altro tutti quelli che tutti quelli che vogliono darci una mano a scriverci sul sito accogliamoci.it c'è un form in cui dare la propria disponibilità e niente di darci una mano per questa raccolta firme che non ha bisogno degli autenticatori ricordo quindi anche chi volesse prendersi un modulo e farlo firmare i propri amici conoscenti colleghi di lavoro parenti può farlo grazie Alessandro Capriccioli Alessandro Capriccioli